Guardiamo a questo punto, diciamo là, sulle tre dimensioni, possiamo guardare quello che succede. Allora avete visto che c'è temperatura e volume, diciamo la curva e le curva diventano queste, a questo punto quello che non vi faccio alla lavagna perché diventerebbe un po' difficile portare la rappresentazione graficamente e mettere tutte le cose insieme. Allora prima di passare a questa rappresentazione ricordiamoci una cosa, che il nostro sistema mentre sta passando di fase è come se praticamente perdesse dei gradi di libertà. Noi abbiamo già parlato vi ricordate dei gradi di libertà del sistema? Abbiamo detto la porta, vi ricordate cosa vi disse la porta? Se io la porta non la faccio muovere nelle sei direzioni uno spazio, ma di vincolo, vi ricordate cosa succede? Diminuisco di arriva, in particolare dei sei gradi di libertà che avevo inizialmente la porta, quanti ce ne sono soltanto? Perché? Perché ho vincolato con delle cerniere, quindi non posso più aprire la porta in questo modo, giusto? Ne posso aprire la porta alzandola sopra, oppure abbassandola giù, va bene? Quindi le cerniere mi vincolano, diciamo da questo punto di vista, negli spostamenti. L'unico spostamento che posso fare è questo. bene, lo stesso avvare, diciamo, accade nei passaggi di fase, quando, insomma, nelle scusate, nelle trasformazioni termine, quando c'è un passaggio di fase. Cosa mi dice la regola delle fasi? Che voi avete già fatto in chimica, ve la ricordate? Mi dà appunto il numero di gradi di libertà del nostro sistema. E che cosa vi dice? Ricordate, in chimica l'avete fatta con più componenti, non con solo componenti. Qui non lo vedremo con la sostanza pura, quindi sarà più facile. Va bene? Poi c'è il numero, diciamo, di componenti, più 1, meno il numero delle fasi, giusto? Eh? Pardò, più 2, il numero di componenti, più 2, meno il numero delle fasi e ottenevate, diciamo, il numero dei gradi di libertà. Regoli Gibbs, giusto? Cosa facciamo qua? E il numero dei componenti, sostanzialmente, è 1, sostanza pura. Quindi, in questo caso, noi abbiamo 3, meno F, che rappresenta il nostro numero di gradi di libertà. Giusto? Se il numero dei fasi è 1, come nel caso normale, come nel caso in cui, diciamo, di partenza, che cosa abbiamo? Il numero delle fasi è una sola fase, solo la riforma. Quanti gradi di libertà ho? 2. Quindi posso scegliere liberamente la coppia di pressione e temperature e stare, diciamo, all'interno, diciamo, identificare il mio sistema. Quando io ho due fasi e le voglio mantenere, attenzione, non posso più cambiare pressione e temperature come voglio dire. Il numero di gradi di libertà è come se fosse ridotto. Quello che vi ho detto prima, che cosa succede? Ricordate nel passaggio di fase che vi ho detto? Attenzione, fissato la pressione, avete fissato pure una temperatura. Cioè, come se avessi vincolato le due grandezze tra di loro e quindi è un unico grado di libertà che ho. Vi trovate? E quindi, in quel caso, due fasi diventa 3-2, quindi ho un unico grado di libertà. O fisso la pressione e la temperatura nella conseguenza, o fisso la temperatura, ma non posso cambiarle come voglio. Fissato la pressione e la temperatura, o fissato la temperatura e la pressione. Chiaro? Quindi, in passaggio di fase, attenzione, non posso, diciamo, ho un unico grado di libertà. In passaggio di fase, io vi do ancora. Lo stesso vale, nel passaggio di fase, il saluto liquido. Va bene? C'è un punto in cui ce ne ho tutte e tre. Punto triplo. Vi ricordate il punto triplo? Andiamola a vedere. So qua. Per avere la coesistenza delle tre fasi, non posso né cambiare la pressione, né cambiare la temperatura. È solo quella. È un unico punto. Cioè, ho 0 gradi di libertà. A seconda delle condizioni, il sistema si dice b variante, 2 gradi di libertà, monovariante, un solo grado di libertà, passaggio di fase di riduzione. In variante, punto triplo. Ho tutte le fasi bloccate, tutte le fasi, e ciò non posso, non ho più nessun grado di libertà. Va bene? Quindi, anche su questi piani, potete notare quali sono i gradi di libertà e quindi capire subito, direi un attimo, pressione del tempo, non li posso scegliere come voglio io. Fissato uno, l'ho fissato anche l'altro. Detto questo, ritorniamo al nostro, ricosserviamo il nostro problema, riosserviamolo a questo punto su tre piani. Allora, lì, io vi ho fatto, che cosa vi ho fatto? Vi ho rappresentato sullo stesso piano, non solo due proprietà, ma ve ne ho rappresentate tre. Cioè, vi ho fatto delle curve parametriche. Sul piano TV vi ho fatto una pressione. Poi, invece di mettervi una terza coordinata di pressione, come normalmente faccio in coordinata di cartesiana, faccio z, x, y, e vi metto le tre coordinate, la terza coordinata ve l'ho fatta parametrica lì. Quindi abbiamo fatto le curve isobbare sempre sullo stesso piano. Se invece volessimo seguire le tre coordinate, non facendo sullo stesso piano anche la curva con una pressione differente, ma facendo tanti strati, quante sono le pressioni, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo quello che vediamo qua, vedete? La prima, quindi allora, a pressione costante ho costruito la prima curva, va bene? Prima fetta, seconda fetta, terza fetta e così via. Vedete? Man mano che salgo, vedete questo plafone che io avevo fatto che diventava sempre più piccolo? Vedete come si è ridotto? Ovviamente la pressione sta salendo. Se io adesso prendo tutti questi punti e li congiungo, i passaggi di fase, e li congiungo tra di loro così come avevo fatto su quel piano, però a questo punto nello spazio in 3D, che cosa succede? Avrò non delle curve caratteristiche, ma delle superfici caratteristiche. Che cosa sono queste superfici caratteristiche? È un canyon, no? È un canyon. Questo canyon ha, che cosa c'ha qua? Su questo punto, su questa parete scoscesa, che cosa c'ho? Perché scoscesa? Perché il volume specifico resta praticamente quasi costante, quindi è un precipizio. Quindi all'aumentare la pressione il volume è più o meno sempre lo stesso. Vedete questa parete come scoscesa? Bene, su questa parete che cosa c'ho? Soltanto? Solido. Solido, bravissimo. Su questa parete scoscesa qui, che cosa c'ho soltanto? Solido. Qui cosa c'ho? Solido. 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 E sotto qua? Solido. Solido. E sotto qua? Solido. 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 Ok? Allora, quindi ho una superficie caratteristica, che qui vedete nella sua bellezza, diciamo, 3D, perché ovviamente è un reticolato, no? Perché io posso fare tutte le isoterme, tutte le isolvere, quindi vedete, diciamo, come tridimensionalmente si rende, diciamo, è reso meglio da questo reticolato, che vi fa capire in 3D, diciamo, qualcosa che invece è intrinsecamente bidimensionale, perché c'è la nostra lavagna, e abbiamo, vedete, solido, solido più liquido, liquido, liquido più fiume, reforme, reforme, solido per il. Va bene? Allora, c'è una piccola differenza tra questo che si è scritto qua e questo che si è scritto qua. Secondo voi il termine vapore e il termine reforme sono sinonimi. E qual è la differenza tra vapore e liquido? Vediamo un po'. Allora, su questa stessa trasparenza c'è scritto qua c'è scritto la reforme e qua c'è scritto vapore. Secondo voi, sono sinonimi di due termini? Lui dice che il vapore è comunque un'aeriforme, però è vicino al liquido. Quindi è un aeriforme che può ritornare molto velocemente in fase liquida. Va bene? Per esempio, sotto la curva a campana io ho sempre il vapore. Va bene? L'aeriforme è un vapore sempre sotto la curva a campana. Tra l'altro prende il nome di vapore saturo, poi vedremo bene. Invece, quando appena esco dalla curva a campana, sono sempre vicino, però è solo vapore. Però, diciamo, il vapore è un po' riscaldato, cioè l'ho super riscaldato. Infatti prende il nome di vapore sul riscaldato. Tanto più mi allontano dalla curva a campana, più non parlo più di vapore. Perché tanto il liquido non lo vedrò mai più. Perché sono talmente più elevate. Se sto a 500 gradi, a 600 gradi, a 700 gradi, ormai la curva a campana l'ho lasciata. E allora lì parlo di aeriforme, di gas. Va bene? Quindi sia il gas sia il vapore sono entrambi aeriforme. Però parlo di vapore quando sono vicino alla curva a campana. Sotto alla curva a campana in particolare il vapore saturo. vicino alla curva a campana di vapore sul riscaldato. Tanto più mi allontano da questa condizione, cioè dalle condizioni di condensazione, tanto più parlerò non più di vapore, ma parlerò di gas. Io potrei anche qui farvi vedere che in particolare parlo di gas quando questa è la mia curva a campana. E quindi se questa è la mia curva a campana vista, eh? Cioè questa è una proiezione, anzi a questo punto vi faccio vedere una proiezione e poi ritorniamo a quei piani, così vi faccio vedere meglio. Queste proiezioni della curva, diciamo, della superficie caratteristica, sui tre piani che abbiamo già visto, due li abbiamo già visti, vedete? Pressione di temperatura. Proprio quel grafico, vedete? Quello che avevamo costruito allo stesso modo. Io non ve l'ho costruito in 3D, ve l'ho costruito in 2D. Però vedete che questo grafico che è la proiezione di questa superficie, qui sopra. Cioè se io mi metto da qua, questa superficie non la vedo come una superficie, ma la vedo come una curva. Eh? E lo stesso vale di questo, diciamo, di questo canyon sceso qua così. Non lo vedo più come una superficie, ma lo vedo come una curva. Perché lo vedo come una curva? Perché è chiaro che qui sopra, cioè in questa direzione, le variazioni, il volume qua non lo vedo più. Quindi non cambia. E se la pressione della temperatura lungo questa trasformazione non cambia, no? Perché abbiamo detto che sono una legata all'altra, io lo vedo come un punto. Chiaro? Quindi è come se praticamente qua sopra, io so che quando mi muovo qua faccio così, poi trovo un canyon che va così, ma poi che va ortogonalmente a questa curva, a questa superficie, a questa lavagna, io non lo vedo. Quindi quando io mi sono mosso così, io che facevo? Riscaldavo, 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 a un certo punto arrivava un punto in cui continuava a dare calore, ma non aumentava più la temperatura, perché quel calore che stavo dando veniva preso dalla mia sostanza per liquefare calore latente di fusione. Quindi continuavo a tirare calore dal mio serbatoio, ma io la temperatura la vedevo sempre costante. Quindi non era calore sensibile, ma calore latente, voi l'avete chiamato nelle corse elementari. Vi ricordate il calore latente? Questo. Latente perché non lo vedete, non lo misurate. Lo potete vedere soltanto alzando il coperchio, qua sta passando di base. Va bene? Allora, qui è il calore latente di fusione. Quando continuo, ho fuso tutto la sostanza, tutto il liquido, arrivo qua sopra, qua faccio un altro precipizio, giusto? Secondo precipizio, quindi lo vedo in questa direzione e ovviamente in 3D lo vedo benissimo, perché vedo le superfici. Chiaro? Sì. Allora, quindi, se andate a vedere questo, la proiezione da questo punto qua diventa chiarissima, queste due curve. E questo punto come si chiama? Punto di limite. Punto di limite. Questa è la curva limite di passaggio di fase tra? Salute di riforme. Salute di riforme e quindi come si chiama la trasformazione tra qua e qua? Punto di riforme. Perfetto, bravissima. Vi ricordo. Allora, adesso possiamo fare tutti i giochetti del mondo, potete passare da solido al liquido, da liquido a fapore, da fapore al liquido, quindi tutte le trasformazioni termodinamiche da qua a qua, se qui sto solo diciamo in fase liquida, sto a 20 gradi, continuo a riscaldare, riscaldare, arrivo a 100 gradi e qua a 100 gradi passerò. In questo punto passerò da liquido a fapore. Chiaro? Allora, quindi a questo punto che cosa posso vedere? Quindi ho solido, qui vedo bene le tre fasi solido, liquido e riforme, non vedo bene i passaggi di fase perché le curve limite, questa curva limite contiene tutta la curva a campagna, la curva limite inferiore e superiore la vedo coincidenta l'una con l'altra perché questa curva degenera su queste. Quindi le vedo tutte e due, una sola al posto al lato. Quindi se voglio seguire i passaggi di fase qual è il diagramma dove devo andare? Eh, non devo andare qui, non posso andare qui. O in alternativa posso anche fare una proiezione in questo senso qua. Questo piano è un piano importantissimo ragazzi. Il piano pressione volume specifico è un piano su cui noi studieremo quasi tutta la termodinamica. si chiama Piano di Clapeyron e guardate, per far capire, adesso c'è un passaggio diciamo a 200 anni fa, per far capire Carnot alla comunità scientifica, il lavoro di Carnot è passato prima per Clapeyron e dopo che hanno capito che diceva Carnot sul piano di Clapeyron la gente ha capito veramente alla portata di quello che dicevano, cioè il secondo principio. perché vedendo sul piano diciamo tu capisci che cosa accade, ti orienti, per questo diciamo per noi termodinamici sono fondamentale questi piani. Se voi non sapete muovervi su questi piani, non potrete mai capire nulla di termodinamica ragazzi. Eh? Quindi questo piano, ripeto, loro li andremo a vedere, potremo vedere non soltanto qui lo stato termodinamico, vedremo di più, vedremo la trasformazione, ma vedremo anche, potremo vedere il lavoro. Il lavoro diverso di volume lo posso fare attraverso un integrale. E quindi sarà una qualcosa di estremamente interessante anche per capire che cosa, non solo lo stato termodinamico, ma quanta energia gli sto dando e quanta energia sto prendendo, semplicemente guardando un diagramma. Quindi capite la portata di questo piano. Allora, ritornando a noi, il, diciamo, le curve caratteristiche le abbiamo fatte, c'è ancora un punto che noi non abbiamo, di cui non abbiamo discusso. Vediamo se vi viene una curiosità. Il punto C. Il punto C. Ma che è questo punto C? Cosa accade al di sotto del punto C? Allora, il punto C si chiama C perché si chiama punto critico. Va bene? Allora, che cos'è questo punto critico? Domanda? Vediamo se qualcuno sa interpretarmi questo punto C. Beh, al di sopra del punto C che cosa accade, ragazzi? Se io sto di sopra, dove è solido, dove è liquido e dove è la riforme? Dove c'è il passaggio di fase? Dove c'è il passaggio di fase? Quando io sto qua sopra, passo dal liquido e passo dalla riforme, ma il passaggio di fase dove avviene? Qua? 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 Dove? Dove sta il passaggio di fase? Allora, ragioniamo di nuovo su questo diagramma. Allora, noi abbiamo capito che i passaggi di fase ci sono dei brusti cambiamenti nelle proprietà specifiche delle, diciamo, modelle della materia. Cioè, quando passo dalla fase sopra alla fase liquida, io vedo un cambiamento repentino perché, diciamo, prima le molecole non si potevano più muore, poi vedo le molecole che si potevano muore. Quando passo allo stato liquido allo stato di riforme, prima c'erano le molecole che avevano un volume molto, diciamo, piccolo e in fase di riforme immediatamente vedo le molecole avere un, diciamo, repentinamente con un decimo di grado in più aumentare il proprio volume di mille volte. Allora, vuol dire che c'è una brusca variazione, una discontinuità, se volete, nelle proprietà termodinamiche del nostro sistema. Cioè, io da qua a qua il volume specifico, cioè a temperatura di 0 grado superiore, il volume specifico è mille volte più grande rispetto a qui. Cioè, ho cambiato un decimo di grado la mia, la mia temperatura del mio sistema ed è cambiata di mille volte il volume. Allora, dite, ho una brusca variazione delle proprietà termodinamiche. Va bene? Bene. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando io man mano che mi avvicino al punto critico, quindi man mano che mi avvicino su, questa discontinuità, questa variazione delle proprietà termodinamiche tra la curva limite inferiore e la curva limite inferiore, diventa sempre più piccola, sempre più piccola, sempre più piccola, finché nel punto C io non avrò più nessuna variazione brusca. Cioè, una volta che ho toccato, quindi arrivo qua, faccio così, arrivo qua, praticamente non ho più nessuna variazione brusca. Cioè, cambiano con contività. Al di sopra di questa, diciamo, di questa pressione, vedete, io aumento la pressione, guarda, pressione costante, aumento la temperatura, aumento il volume. Non c'ho mai un punto in cui la temperatura mi resta fissa e, diciamo, c'ho un passaggio di fase brusco. Non ce l'ho più questo passaggio di fase. Per cui, le proprietà, diciamo, al di sopra di quel punto, al di sopra di quella pressione critica, quando io andrò a riscaldare, vedrò che le proprietà cambiano con contività. Non c'è un passaggio di fase. Non c'è una fase A, una fase B. Ho una variazione progressiva delle proprietà termodinamiche, quindi del volume specifico, dell'entropia, dell'entropia. Non c'ho più delle brusche variazioni. Va bene? Quindi c'ho qua sopra qualcosa che non assomiglia né a un liquido né a una riforme, ma è un tutt'uno, perché il liquido è riforme. Non c'è un punto preciso in cui dice qua è liquido e qua è riforme. È un fluido che cambia le sue proprietà continuativamente, per cui non c'è un punto in cui rassomiglia più al liquido e un punto in cui rassomiglia più al passaggio. Non lo posso dire. Al di sopra di questa pressione è, diciamo, più o meno è molto vicino alla riforme, è molto vicino al liquido, ma non c'è un brusco passaggio di fase. Non c'è una superficie, diciamo, di separazione netta. Chiaro? Perché non c'ho più questo passaggio di questa discontinuità. Va bene? Perché che cosa succede qui? Che il volume specifico diventa, del liquido, diventa molto prossimo al volume specifico del liquido. Perché? È evidente, ragazzi, perché quando la pressione sale, anche se voi una riforme, diciamo, occupa un volume specifico più grande, se voi lo comprimete, lo comprimete, lo comprimete, all'elevata temperatura non passerà di fase, ma comunque il volume sarà sempre più ridotto. Chiaro? E quindi, di fatto, rimarrà sempre un gas, ma avrà un volume specifico molto vicino a quello, diciamo, del liquido. E quindi, qui sopra, siamo a pressioni talmente elevate che un gas ha un volume specifico prossimo a quello di un liquido. E quindi non c'è più questa distinzione. Anche perché non c'è più, ovviamente, anche un brusco discontinuo. E' chiaro anche fisicamente il perché. E' una riforme compresso, ma compresso talmente tanto che quasi ha le stesse proprietà di un liquido. Quindi, punto C. Adesso, diciamo, poi tra l'altro noi ritorneremo su questo punto critico, perché ci serve molto, vedete, ci serve tantissimo, per stabilire quando un gas è un gas ideale. Poi vedremo che i gas possono avere un comportamento ideale e non ideale. E quel punto critico è un punto, è un nodo di orientamento, un punto di orientamento che ci sarà estremamente utile per poter stabilire per ogni tipologia di gas quanto distanti siamo dalle condizioni di energia. Un altro punto volevo, diciamo, prima di chiudere la lezione volevo, sull'altro punto volevo, vabbè, queste sono tutte cose che ovviamente già abbiamo fatto, volevo dirvi, attenzione, a ragionare sullo stesso diagramma al variare della sua modalità delle sostanze. Cioè, queste due effici caratteristiche, ovviamente, sono quelle famose due effici di cui io vi ho parlato nella prima lezione, quando vi ho detto, attenzione, ragazzi, non ho bisogno di tutte le proprietà termodinamiche per definire lo stato intensivo di un sistema, mi bastano un certo numero. Quindi, una volta che ho preso x, y, io ho preso tutto, va bene? Quindi, posso determinare z a partire da x, y, giusto? Quindi, qua che cosa vi sto dicendo su questo diagramma? Ragazzi, prendete la v, la v è una funzione della pressione della temperatura, per esempio. va bene? Nella realtà, questa va bene, ma solo fino a un certo punto, perché abbiamo visto qualche volta, la pressione della temperatura sono, diciamo, parente dell'altra, e quindi, in passaggio di fase, questa funzione viene meno. Però, quando non siamo in passaggio di fase, questa funzione, diciamo, la posso assolutamente utilizzare. Allora, che cosa vuol dire questo, ragazzi? vuol dire che se io, diciamo, ho una funzione, se avessi un'unica funzione per tutti, diciamo, per tutte le sostanze, e io avrei fatto bingo, va bene, ho un unico diagramma, questo è il diagramma, signori, ci vediamo all'esame. E invece dobbiamo studiare un po' di tempo, perché non è un unico diagramma. sono tanti diagramma in funzione, ovviamente, dei tipi di sostanze. Però, attenzione, è vero che sono tanti, ma questi profili sono praticamente gli stessi, o quasi gli stessi, al variare del tipo di sostanza. Cioè, a questo punto c'è la più in basso o più in alto, questo superficie sarà un po' più stretto o un po' più in largo. Va bene? E' evidente, no? Cioè, se io prendo il punto di ebollizione alla pressione atmosferica, il punto di passaggio di Fasser, la pressione atmosferica dell'alcol invece dell'acqua, avrò una, diciamo, una temperatura differente. Va bene? O lo stesso, diciamo, degli oli, piuttosto che qualunque altra sostanza. Quindi, di fatto, della benzina, piuttosto che, diciamo, del metano e così via. Ognuno ha la sua curva caratteristica, le sue superfici caratteristiche. Quindi quella funzione, attenzione, è vero che potrò scrivere per una stanza semplice una funzione caratteristica, ma è caratteristica, che si chiama funzione caratteristica, che è caratteristica di quella sostanza. Va bene? E non è, quindi, una legge fondamentale della fisica. Le leggi fondamentali sono vere sempre. Qualunque sia la sostanza. Il primo principio è vero sempre. Prendo l'acqua, prendo, diciamo, l'olio, prendo, diciamo, l'alcol, sempre. Va bene? Le stesse. In questo caso, invece, purtroppo, abbiamo che cambiano le nostre funzioni. Ma, per fortuna, questi andamenti sono gli stessi, tranne per alcune sostanze. Allora, perché noi studieremo due, diciamo, due vettori energetici? A noi interessa sulla termodinamica, ma perché la termodinamica ci serve a studiare l'energia? Cioè, i meccanici caldi, i meccanici freddi, gli elettrotecnici, gli industriali in generale, hanno bisogno della fisica tecnica come il pane. Perché? Perché la fisica tecnica è il primo tassello che voi mettete per studiare l'energia, per studiare l'energetica, per studiare le macchine termiche, le macchine, diciamo, di produzione dell'energia elettrica. Allora, quindi, a noi interessano queste sostanze, le principali sostanze, ci interessano in quanto vettori energetici. Vettori energetici vuol dire una sostanza che trasporta energia. Va bene? Vettori energetici. Bene. Quali sono i due principali vettori energetici che noi dobbiamo studiare? L'acqua e l'aria. Va bene? Sono i due vettori più importanti. Quindi, ovviamente, noi voi farete centinaia di esercizi. Va bene? Vi faremo fare tutte le trasformazioni del mondo. Va bene? Ovviamente, questa, utilizzando questo diagramma, ma anche altro diagramma, o utilizzando anche delle tabelle. Poi vedremo, a partire dalla prossima lezione, che io posso anche, in luogo di un diagramma, avere dei dati tabellati. Cioè, non la funzione, non il diagramma, perché sul diagramma io visualizzo la funzione. sulla tabella, sulla tabella, per ogni punto, io prendo questo punto, questo punto, e questo punto, a questa pressione, a questa temperatura, a questa pressione, a questa temperatura, e così via. Quindi, vado a fissare due variabili, e vado a vedere quattro, un'altra variabile. Quindi, posso utilizzare i diagrammi, posso utilizzare le tabelle, posso utilizzare delle funzioni, delle funzioni matematiche. Allora, se utilizzate un software, dentro ci sono delle funzioni matematiche. se utilizzate il diagramma, la funzione rappresentata graficamente, quindi dovete seguire, le curve giuste, che potete orientare. Se utilizzate le tabelle, dovete interpolare. Quindi, l'avete già fatto, immagino, qualche interpolazione, nella lezione, immagino di ieri. L'avete già fatto, le interpolazioni? No. No. Allora, la vostra lezione, la vostra citazione. E quindi, diciamo, studieremo, delle proprietà tipodinamiche, a partire da altre proprietà. Va bene? Ultima cosa, poi veramente abbiamo terminato. Vi avevo parlato di comportamenti anomali. Allora, l'acqua, perché ha un comportamento anomalo? Per due motivi. Il primo, il più importante è questo. Questo è il diagramma di pressione e temperatura. per l'acqua, invece di questa curva, invece di andarsene così, se ne va dall'altro lato. Va bene? Quindi, voi avete per l'acqua una cosa abbastanza strana. Se voi andate alla pressione atmosferica, un bar, un po' di più di un bar, Quanta è la pressione atmosferica del bar, ragazzi? Quanto? 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 Quanto è? Quindi, 1,01 bar o 101.325 pascal. Quindi, o bar o pascal. Guardate che il bar, dal punto di vista del sistema di interazione, è consentito, nella misura in cui è un multiplo. Va bene? Attenzione, non utilizzate l'atmosfera. Non va bene. O i torri. Ancora peggio. Solo i medici possono utilizzare i torri. Con i limiti di medici, con i limiti di medici. Allora, l'avete già fatto, diciamo, in misura, sbaglio, anche in misura, che possiamo raccontare. Questa, diciamo, questi due punti, uno, che cos'è? Allora, vediamolo un attimo, ragazzi. Questo quanto è? Secondo voi. Questo è un punto, questo è solido, questo è, abbiamo detto che è liquido, e qua c'è le forme, giusto? Per l'acqua, questo punto, diciamo, di passaggio di fase, alla pressione atmosferica, solido o liquido, quant'è? Zero gradi Celsius, bravissimo. Questo punto qua, non sta più dietro, come normalmente sta in altre, per altre sostanze, ma sta più avanti, per cui questo punto qua, sta a, 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 questo è il 273.15, questo è il 273.16, va bene? Sta un po', un po' un po' più avanti. cioè l'acqua ha questo comportamento anomalo di questa curva e l'altro comportamento anomalo è l'inversione di questa curva signora, Questa e questa qua, ovviamente sono uno con torrellata l'altro, va bene? Non so se vi è chiaro, cioè in passaggio di fase il ghiaccio non va sotto, va sopra, perché? Perché invece di essere, avrà poi raffreddato, invece di diminuire il volume aumenta, e quindi là il ghiaccio lo mette sopra, fino a 4 gradi, in cui abbiamo questo punto di immersione. Anche dopo che si è sciolto il ghiaccio, continua in una fase di inversione termine, è finito di arrivare all'inversione sopra i 4 gradi, quindi ha una situazione molto strana, rispetto ad altre sostanze, va bene? E' anomala, quindi è l'unica sostanza in cui poi dite, mamma mia, quella che sta succedendo. Tutte le altre funzionano tutte come abbiamo visto, va bene? Ma questo poi impareremo a vedere quando lo utilizzeremo. Ragazzi, alla prossima.